Ricarico, ho abbattuto un soggetto, la mia visione è chiara. Trappola gas e piazzate. La mia visione è chiara. Il suo uomo, sto ricaricando gli scutti. Lancio una stereotipa. Ancora a vedere tutto, variabili dipendenti da fuori, sto ricaricando. La mia visione è chiara, lo ricarico. Un'unima vorti, sto ricaricando. La mia visione è chiara. Il suo uomo, sto ricaricando il suo uomo. Grazie a tutti